buongiorno a tutti e buona domenica alcuni di voi ho visto che mi hanno già chiesto di fare il confronto con federico pistono ma facciamoci due domande a cosa servirebbe nel senso che pistono non conta nulla sicuramente avrà delle argomentazioni da portare trite e ritrite perché l'avete già disintegrato voi sul web non è riuscito più a dire nulla e questa è una cosa molto molto pesante per loro perché vuol dire che non hanno più argomenti per giustificare quello che stanno facendo e sanno benissimo che sono stati beccati con le mani nella marmellata ma fare un confronto con questo qua non esiste chi è e a cosa porterebbe allora facciamo una bella cosa se vogliono fare il confronto dato che lui fa parte di questo tipo di discorso lo facciamo in prima serata con un pool che metteranno assieme loro non so il mettere il meteorologo più più blasonato d'italia qualche scienziato che la sa più lunga di tutti qualche ingegnere aeronautico che ha costruito da solo un aeroplano cose di questo genere quando metteranno assieme una cosa di questo tipo in prima serata in diretta rigorosamente in qualsiasi trasmissione mainstream che vogliono loro allora il confronto secondo me per quanto mi riguarda si potrà fare ma discutere con un essere del genere a cosa porterebbe l'avete già disintegrato sul web l'avete fatto praticamente a pezzi e sto poverino adesso sta cercando di rimettere assieme i pezzi con un confronto che non avrà a meno da parte mia perché come dice qualcuno se devi fare un confronto lo devi fare con la gente che conta se no per di solo tempo energia e basta non dico credibilità perché ormai ne sappiamo talmente tanto su questo argomento che non ci può dire niente nessuno tutto lì quindi quando i signorini vorranno ribadisco ancora da quando ho fatto l'intervista quando da quando nemo mi aveva chiesto di presenziare in trasmissione però nemo sapete che registrata come trasmissione poi abbiamo visto che fine ha fatto fare a mario 40 ottimo ricercatore praticamente gli hanno fatto dire quello che hanno voluto loro o perlomeno hanno mandato in onda il pezzo dell'intervista che più interessava loro e che pistone riprende perché l'unico pezzo dell'intervista che è andata in onda di mario 40 è stato proprio sul controllo mentale e sulle nanotecnologie non hanno mai mandato in onda i pezzi della sua intervista dove parlava delle cose come si può dire più palpabili controllo del clima e altro perché staccare la percezione della gente e mandarla su fatti difficilmente verificabili è meglio che mandare in onda qualcosa di perfettamente di tangibile e verificabile in qualsiasi momento e loro con mario 40 hanno fatto questo lavoro proprio perché nemo è una trasmissione registrata e gliel'ha permesso quindi se vogliono il confronto ancora una volta per la seconda volta al momento prima serata chi vogliono loro qualsiasi rete nazionale e si fa questo confronto però ragazzi qualcuno che conti che abbia capacità non dico decisionale ma che negli ambienti scientifici abbia un determinato peso pistone che peso ha alla fine è solo un galoppino che sta facendo un tipo di lavoro punto va bene buona domenica e vediamo se accetteranno hai capito federico pistono ciao buona domenica